Meghan Markle e il principe Harry beneficeranno sempre dei loro legami reali poiché sono stati intrecciati nel loro marchio, secondo un esperto. Meghan e il principe Harry non possono cancellare i loro legami con la famiglia reale a causa della loro storia e del loro DNA, secondo l'esperto di gestione del marchio e della reputazione Eric Schiffer. Alla domanda se il duca e la duchessa del Sussex possano avere successo in futuro senza sfruttare i loro legami reali, il commentatore ha detto a express.co.uk. Harry e Meghan possono avere successo senza sfruttare apertamente il legame, con la famiglia reale, perché hanno costruito una base ora. Spiegando perché è impossibile scollegare questo legame reale, Schiffer ha continuato. La madre di Harry era la principessa Diana, che non lo lascerà mai, e quindi essere in grado di disaccoppiare la regalità è impossibile per Harry. Quindi a un certo livello, grande o piccolo che sia, trarrà sempre beneficio dall'enorme potere che proviene dalla corona e da Diana. È impossibile disconnettere i due oggi. Meghan e il principe Harry si sono ufficialmente dimessi da reali senior alla fine di marzo 2020. Due mesi dopo aver annunciato la loro intenzione di creare un nuovo ruolo progressivo per se stessi all'interno dello studio. Secondo la dichiarazione bomba rilasciata nel gennaio dello scorso anno, il duca e la duchessa volevano dividere le loro vite tra il Nord America e il Regno Unito, mantenere i loro titoli e patrocini completi e continuare a servire la corona mentre perseguivano anche progetti a scopo di lucro per diventare indipendenti dalla sovvenzione sovrana. Tuttavia, i loro piani sono stati infranti in seguito agli incontri tra i reali e Meghan e Harry alla fine si sono dimessi rinunciando a utilizzare i loro stili di sua altezza reale, svolgere l'impegno reale e mantenere le loro associazioni reali e militari. Negli ultimi mesi, Meghan e Harry hanno continuato a usare i loro titoli reali di duca e duchessa in diverse occasioni. Più di recente, Meghan ha debuttato come autrice di libri per bambini con il racconto The Bench.